La mia solidarietà più totale alla ministra Rocella, perché vedete, ce lo insegna il libro. Quando nelle epoche storiche buie si è voluto bandire un autore, bandire o bruciare addirittura un libro, c'è qualcuno che fra l'altro ha anche proposto di non ospitare a questa mostra degli scrittori israeliani. Quando qualcuno ha voluto mettere al bando delle idee, e quindi appunto idee che spesso sono state espresse nella carta, ma anche a voce ovviamente, l'importanza è l'idea, il pensiero, la libertà del pensiero, e siamo sempre stati sulle soglie del pensiero totalitario o totalizzante, che vuol dire si voglia. Quindi piena solidarietà al ministro Rocella, piena solidarietà a tutti coloro, scienziati, scrittori, artisti, che da qualunque paese vengano hanno diritto di cittadinanza.